Cosa è successo? Abbiamo visto che c'è stato qualche urlo a vergogna, c'è stata qualche espressione di senso diversa dai normali canali, quelli imposti. Però c'è stata una rissa, insomma, quello è poi il problema, no? C'è stata una rissa dove? Tra due consiglieri? No, quello quasi, poi lo mostreremo, però no. Aspettate, aspettate, calmo. Sempre voi. No, la prego, non va bene così, la prego, dopo discutiamo. Allora, diciamo, c'è stata una rissa tra il pubblico. Come tra il pubblico? Nel pubblico, cioè i ragazzi che erano lì. Tra il pubblico ci sono state queste espressioni che... Ma il vigile insanguinato? A differenza di altri, no? Alcuni, a differenza di altri, hanno... Espresso in maniera sbagliata questa opposizione. In maniera sbagliata. C'è qualcuno che semplicemente ha voluto esprimere, no? A parole, dicendo semplicemente vergogna, vergognatevi. Io penso che su questo non ci sia alcunché. E gli è venuto sangue dal naso il vigile allora. Allora, loro citavano questa sera nel dibattito il fatto che un poliziotto sia stato ferito, sia... Ma io questo, ma come... Non potete però chiedere queste cose a me. Io chiedo come è andata e queste le cose che vedo. Ma questo non devo neanche valutarlo io, ma scusate, ma cosa c'entra questo discorso? E quindi questo è. Questa è l'espressione, si è espressa in una maniera diversa rispetto ad altre persone. In modo democratico. Noi leghisti non stiamo simpatici della Casa delle Culture. Ma tanti non state simpatici. Mi è rimasto proprio impresso il giorno che è arrivato Salvini e loro le vecchie dei centri sociali hanno incominciato a lanciare oggetti verso di noi. C'era mia moglie con il bambino in braccio che piangeva, io me lo sono ricordato. Io se vengo in letto vi chiudo quel posto e quel posto sarà chiuso. Se lei condanna la violenza che è stata fatta in Consiglio Comunale contro le forze dell'ordine. Va bene, vi prego. Bastianì? Ma io non so che violenza. Allora, se ci sarà stata... Se la condanna? Sì, ma se sarà stata fatta violenza là, come al discorso di Salvini, giusto? Abbiamo parlato, benissimo. No, ma io penso, io mi chiedo, né io né voi non penso che siamo coloro che devono decidere su questo fatto qua. Quindi di cosa stiamo parlando? La condanna o la condanna? Se c'è qualcuno che dirà che ci sono state fatte violenze, chi le ha commesse pagherà come se. Quindi lei le condanna? Come se, se ci saranno state.